La truffa corre sul web a farne le spese i profili Twitter dei grandi guru del mondo digitale, della politica e dell'e-commerce. Gli account Twitter di Joe Biden, prossimo avversario di Trump alla Casa Bianca, ma anche quello di Elon Musk, il magnate americano padrone di Tesla e della navetta SpaceX, che porta passeggeri nello spazio, sono stati hackerati nell'ambito di una colossale truffa legata all'uso di bitcoin, moneta virtuale scelta dai risparmiatori di tutto il mondo. Tra legnare vittime, Jeff Bezos, patron di Amazon, l'uomo più ricco del mondo, o Bill Gates, inventore di Microsoft, e gli account di Apple, Uber, del tycoon miliardario Bloomberg e del famoso rapper Kanye West, marito di Kim Kardashian. Secondo quanto riportano i media statunitensi su falsi profili Twitter delle famose vittime, sono apparsi 5T che promettevano di raddoppiare la montare delle cifre versate in bitcoin, inviati ai loro indirizzi. Ci sentiamo generosi e vogliamo aiutare che in difficoltà per il coronavirus, twittavano i truffatori, dopo essersi impossessati di identità celebri. Anche questo oggi è in primissimo piano.